Negli stati dove si produce la cocaina, sono gli unici tre stati al mondo dove si produce in modo naturale la città. Quindi noi siamo stati qui, questa foto che voi vedete, siamo nella foresta amazzonica dove c'è un campo di addestramento dell'esercito colombiano, dove l'armii sono circa 4 mila d'armii per corso, per 4 mila d'armii colombiano, dove si attestano combattere e terroristi colombiani, per questo momento sono le FARC, sono circa 40 mila. Il FARC sono circa 40 mila d'armii colombiano. Questo che voi vedete è simulare un elicoptero. In pratica quella torre è alta 90 metri. È una colla di 90 metri. Perché loro immaginano simulare un elicoptero che arriva nella foresta amazzonica dove sono alberi alti 30-40 metri. E da lì si calano con le colombiano per far vedere, per allenarsi alla paura anche di scendere da questa amazzonica. E non sapere sotto cosa c'è. Queste sono delle piante di coca, cioè hanno circa 7-8 mesi. Allo stato naturale esistono 10 tipi di piante di coca. La migliore è la boliviana. La migliore è la boliviana. Perché si possono fare tre raccolti l'anno. E i tipi di pianta, i diversi tipi di pianta si conoscono... Non dalle foglie perché sono uguali. Ma dal campo, dallo stelo. Dalla consistenza dello stelo. Queste sono altre piante. Crescono anche due metri. Sono come degli altri. Questo era il comandante della scuola. E durante questo viaggio abbiamo avuto la possibilità quindi di vivere più di una settimana, più di una settimana, più di una settimana, in questi luoghi che è abbastanza difficile per il caldo. Qui siamo arrivati con l'elicottero. La cosa che più ci ha impressionato è per poter coltivare un hectare di di altri... Per poter distruggere quattro etri di foresta mazzorica. E un hectare di cocainovi chrasti dovrebbero essere uguali. E i narcotraficanti si creano questi spazi. O di scuola di foresta mazzorica. O di scuola di foresta mazzorica. O di scuola di foresta mazzorica. O di scuola di scuola di scuola di scuola di scuola di scuola. O di scuola di scuola. Che' facciano... Questo per terrorizzare, per avere campo libero. Ovviamente i contadini sanno che quella è l'unica fonte loro di approvigionamento, per mangiare, perché loro destino sarà quello di ammassarsi attorno alle grandi città come Bogota, dove ci sono circa 5 milioni di persone, non ciancite, figli di nessuno. Ci sono circa 5 milioni di persone, che vivono nelle favele, e poi diventano violenti per mangiare. E quindi la periferia di Bogota, la vita di nuovo, vale un telefonino, vale una bicicletta. La cosa che poi ci ha impressionato è stato la grande quantità di precursori chimici, di sostanze chimiche, che servono per arrivare a produrre la protezione. E voi immaginate un luogo così difficile in ospitare come la foresta mazzonica dove arrivano queste tonnellate di precursori chimici. e dove arrivano questi precursori chimici? Voi pensate solo che l'Argentina per la propria industria e farmaceutica consuma un milione e duecento tonnellate di precursori chimici. ma l'Argentina importa 22 milioni di precursori chimici. e l'Argentina importa circa 20 milioni di chimici. e l'Argentina per l'Argentina per l'Argentina per l'Argentina. e l'Argentina per l'Argentina per l'Argentina. e allora la pasta di coca si estrae dalle foglie. In Colombia si tirano le foglie e poi si mettono delle grosse vasche. in Colombia si tirano le foglie. e poi con un spugliatore quello che con un filo taglia l'erba gli prati taglia l'inquiaglio, di queste poi si fa una portiglia, quando l'impasto è mole, si mette nell'impasto del cemento, da costruzione, quello che i emulatori usano per costruire l'impasto, questo è la prima sostanza che entra poi nella cocaina. Il cemento serve a costruire l'impasto, serve a rendere più duro questo impasto. Poi questo impasto viene messo nel querosene per macerare. Quindi, quando non c'è il querosene, ci sono degli elementi di maiale, si la cosa è l'orina dei maiali, si mette, questo impasto non è l'orina dei maiali. e si lega tutto questo impasto nella cocaina. Questo dovremmo spiegano e ragazze non le scuole, no? Questo dovremmo vi spiegano per le ragazze in le scuole, no? 10 passaggi chimici, come ad esempio l'acetone, l'acetone, che si usate per l'acetone, che si usate per l'acetone, che si usate per l'acetone. Perché il bianco non dà il senso di impurezza, di qualcosa che non fa male di bianco? E quando dopo si comincia a fatto questo impasto alla fine della relazione, quello lì è un essiccatoio, vedete che sopra ci sono delle lampadine accese, riscaldano in quei piatti c'è della cocaina. Oppure ci sono dei forni in microonde. Quella bilancia per pesare un chilo per volta. Poi si fanno, si pesa un chilo per volta. Ora, vedete questi timbri secco, KTM. Questo timbro viene messo sopra il panetto di cocaina e viene messo in quella pressa. Il marchio sopra serve a riconoscere la provenienza della cocaina. Il marchio sopra di cocaina. Il marchio sopra la cocaina. Lui la vende. non è riconoscere la cocaina, perché non c'è peccato di cocaina. Viene poi messa sopra l'autoluovo. e poi spedita in Europa o negli stati di Nord America o in Australia. Ci sono vari modi per farla arrivare. In vari modi, come ad esempio nei borsoni, ad esempio nei vestiti. cittadini. Ma quello che il traffico che noi... Questo è un riforme al microonde dove venivano essiccati i panetti. Quello che più ci interessa, le indagini che noi facciamo, è quello che la cocaina carriva con il container. in particolare dal sud della Colombia, della Bolivia. Perché negli ultimi anni la Colombia sta facendo un forte contrasto. Perché si vuole creare una nuova faccia. E infatti pensate che la Colombia è dopo la Cina il secondo stato che è il secondo stato al mondo come aumento del pillo ogni anno. Che si aggira al 9%. Ora, questa cocaina della quale noi ci interessiamo parte soprattutto dalla cocaina. che è un posto di partenza della cocaina. E perché in Colombia c'è il porto più grande del sud America. Pensate che solo di banchine ci sono 17 km. E quindi, voi immaginate quante tonnellate di cocaina possono passare? E anche perché la polizia federale è brasiliana. Ticca e la polizia federale è brazile. E anche perché la polizia federale è brazile. È pur brava e capace. È una società di spedicioni con una partenza di un carico di copertura come ad esempio canna da zucchero. È un modo di trovare un carico di copertura come ad esempio. E un carico di copertura come ad esempio con un carico di copertura come ad esempio. Cosa è parte della nave per verso l'Europa. Cosa è parte della nave per verso l'Europa. Cosa è parte della nave per verso l'Europa. Cosa è parte della copertura? Questi containeri. Questi containeri. Qui stiamo andando sotto dove c'è il piume. C'è la lavorazione della coca. Questo container viene aperto. Si tolgono i sigilli. E si tolgono questi borzoni. Si richiude il container. E si mette un sigillo. che ha lo stesso numero di quello di partenza. E le organizazioni che si sono messi assieme, contruzate per far arrivare questa cocaina. E questa organizazione, che è un'organizzazione, che è un'organizzazione, che si prende un pezzo. E si prende un pezzo. La vendere, la incomincia vendere, se vende 50 kg. La vendere 30.000 euro al kg. 30.000 euro al kg. Quando si prende un kilo, la vendere 60.000 euro al kg. Quando si abri un pacco, da un kilo, il mattone. Quando si prende un pacco di 1 kg. Quando si prende un pacco di 1 kg. Si prende un pacco di 1 kg. Si prende un pacco di 1 kg. . E si prende un pacco di 1 kg. che si può essere smessi. La frulla si smessi tutto questo. Ed è pronta la droga da strada. E questo è il cocaina che si è prodotto all'inizio. Questo che voi vedete da sotto marino. È una strada di narcotraficanti. È costruita da narcotraficanti. E qua dentro ci stanno da quattordici a 15 toni di cocaina. Si sono provati da 14 toni di cocaina. Viene guidato da due persone. E questo serve per attraversare il centro America. Ci sono diversi di questi sottomarini che sono stati sequestrati. Anche perché queste organizzazioni internazionali di traficanti sono molto bravi perché affittano dei sottomarini non hanno sottomarini. Per controllare. Per controllare. Quando ci sono sottomarini americani sul centro America. Cosa americani sono in centro America. in centro America. Questo per evitare appunto che vengate provati. In questo modo non potrebbero essere affacciati. Quindi questa è la seczione. in questo modo. In questo modo. Solo per farvi capire l'importanza dell'andrangheta. Vi faccio vedere alcune delle rote principali. La cocaina parte sostanzialmente dall'America Latina. e come diceva Procuratore dei latieri principalmente dal Porto di Santos. E dal Porto di Santos percorre la ruta settentrionale. E dal Porto di Santos percorre la ruta settentrionale. Aversa. 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 Anversa. 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 Vregi ma in costanza. E quasi tutti i borchi che poi sono sul marnello. C'è un altro aspetto interessante che è quello appunto dell'Africa e in modo particolare la Guinea-Bissau che è un paese gestito da autorità militari, che i del régimen militare che consente lo stocaggio della cocaina in grandi quantità e quindi c'è la polizia locale che assiste impotente e la rivo di A.E.